buongiorno a tutti ragazzi buongiorno a tutti allora ieri sera giornata serata di estrazione devo ancora caricare parecchi scontrini il milano napoli continua a regalarvi in tre estrazioni vi ha regalato un ambo secco e due ambetti una tecnica spettacolare ieri sera 49 84 sulla ruota di napoli l'estrazione prima 47 84 sulla ruota di milano l'estrazione prima ancora 18 e 48 ambo secco è una tecnica bellissima che nei prossimi di giorni rispolveremo ve la farò rivedere per tutti i nuovi iscritti che non trovano il video su youtube vi prometto che farò un video nei prossimi giorni dove rispiegherò questa bellissima tecnica avrà finito di pagare è una tecnica imprevedibile io ho detto che il 48 su milano napoli secondo me uscirà nuovamente e ho questa sensazione che il 48 andrà in ambo secco o con l'81 o in ambetto col 17 o 19 perché se ci fate caso estrazione del 15 luglio milano 47 estrazione del 18 luglio napoli 49 in mezzo a queste due estrazioni c'è un 47 bellissimo e per me il 48 ritorna però staremo a vedere chi vuole giocarla intanto può continuare la previsione che ho regalato e siamo al terzo colpo vedete metto una sola previsione chi vuole continuare la continua 18 e 44 genova milano ambo ambetto 18 44 54 84 ieri sera abbiamo rischiato che qualcuno gli veniva qualche coccolone perché la previsione col 67 abbiamo rischiato di fare l'ambo secchissimo a mezzo colpo allora ovviamente tanti messaggi si continua non si continua ragazzi solo un matto può abbandonare una previsione del genere io ve l'ho detto prima noi con questa con questa previsione potrebbe anche uscire il terno secco perciò assolutamente non fate neanche queste domande si continua ieri sera abbiamo rischiato l'ambo secco a mezzo colpo ma l'ambo secco non è uscito un conto è andare vicino un conto è prenderlo perciò si continua assolutamente luglio in festa 2 questa fa parte della previsione luglio in festa 2 ok dove avete il bari cagliari e poi questa previsione con roma e questa ruota qua ovviamente grazie a tutti perché state già prenotando agosto in festa che sarà pronto ve lo ricordo ve lo ripeto sarà pronto nei primi giorni di agosto ok e poi ovviamente a metà ci sarà inclusa anche questa bellissima tecnica bari palermo roma che tra l'altro ho detto potrebbe risortire nuovamente perché sapete che le mie tecniche fanno giocare sulla ripetizione dei numeri ok che dire bellissimo bellissimo veramente bellissime condizioni ce n'è un paio mi raccomando le state portando avanti il segreto per vincere con queste tecniche quando individuate una condizione portatela avanti ieri abbiamo rischiato nuovamente su bari di prendere lambo secco e oh ieri è stata la serata del rischiamo abbiamo rischiato ci siamo andati vicini pazienza e che dobbiamo fare capita anche quello però vi ripeto che i numeri queste tutte queste tecniche che trovate all'interno giocano sulla ripetizione dei numeri perciò mi raccomando allora ragazzi gruppo abbonati affrettatevi perché ci si può abbonare per agosto ci si può abbonare per il mese d'agosto e vi ricordo tutti coloro che si abbonano ovviamente mandandomi un messaggio a questo numero whatsapp che si abbonano per il mese di agosto avranno lo dico adesso in regalo a loro scelta o il mensile o agosto in festa perciò non c'è senso che comprate una previsione vi conviene abbonarvi abbonatevi perché avete pochi giorni ancora per abbonarvi così siete per il mese d'agosto siete coperti in tutto e per tutto sul nostro mensile è rimasta una sola previsione si continua mi raccomando ce ne erano due una ha colpito alla grande ne è rimasto una che ha acquistato il mensile ovviamente c'è una previsione e si porta avanti va bene ragazzi vi ricordo vi ricordo di iscrivervi al canale lo trovate su facebook samanta lotto ieri sera ha fatto prendere il 54 a colpo su cagliari per un pelo non usciva anche lì per un pelo non usciva lambo secco samanta lotto troverete anche qualche previsione in mi con la collaborazione mia la trovate su facebook non esistono canali youtube non esistono canali tegron voi andate su facebook cercate samanta lotto la vedete perché ci sono anch'io all'interno iscrivetevi anche perché mi ha mandato un messaggio pochi secondi fa prima di fare il video dove mi ha detto che per oggi pomeriggio avrebbe messo una bellissima previsione su due ruote e insomma mi raccomando se volete prendere questa previsione gratis dovete cliccare su facebook su gruppo samanta lotto ha una bellissima previsione col 68 io me l'ha mandata l'ho vista una bellissima bellissima condizione poi lei fa giocare un po come me un numero e due ambi perciò è molto brava è molto brava perciò mi raccomando mi raccomando ovviamente la previsione col 68 per chi non avesse il suo numero può mandare un messaggio a me io gli giro tutto lei si trova sul gruppo facebook samanta lotto va bene ragazzi domani mi raccomando positivi dal vostro capitano un grosso besos e mi raccomando mi raccomando sempre positivi perché la positività ci porterà molto lontano